L'Istat stila un rapporto sugli incidenti stradali del 2014. Si parte dal dato nazionale dove ne sono stati contati 177.000 con 3.381 decessi. Rispetto all'anno precedente si registra una diminuzione del 2,5%. Il rallentamento significa che purtroppo il fenomeno sta ripigliando vigore. Se invece guardiamo il dato riferito al territorio abruzzese vediamo che il calo è più sostenuto. Gli incidenti stradali nel 2014 rispetto all'anno precedente sono diminuiti del 4,8% e i feriti sono diminuiti del 4,9%. I dati regionali invece delineano un quadro che vede il maggior numero degli incidenti sulle strade urbane, con incidenti più gravi invece su quelle extraurbane. Il periodo di maggior concentrazione è quello primaverile-estivo. Gli orari invece dimostrano che gli incidenti più gravi avvengono la mattina dalle 5 alle 7 e che i giorni più pericolosi sono il venerdì e il sabato in cui si registra il 44% degli incidenti notturni. Tra le cause maggiori la velocità, la distrazione e il mancato rispetto delle norme stradali. Nel 2014 abbiamo avuto 1.107 incidenti con 41 morti e soprattutto l'indice di mortalità che preoccupa. Le strade su cui sono avvenuti questi decessi, purtroppo questi incidenti gravi, soprattutto oltre a tratti dell'autostrada adriatica, la statale 16 adriatica, la statale 17, la Tiburtina Valeria, strada numero 5 e anche l'81. I comuni interessati, soprattutto il comune di Ortona, il comune dell'Aquila, Giulianova e anche il comune di Vasto. Abbiamo notato anche un aumento dell'incidentalità nei mesi estivi in provincia di Teramo, quindi sicuramente legata ai flussi turistici.